Un concetto legato in maniera estremamente diretta a casa di Dio, quindi la festa, non ci arrivi e finisce all'autogrill. Leggo, da rotta per casa di Dio, tutti con in mano birra e camogli noi, senza fidanzate, troie né mogli, quattro deficienti a fare cazzate come non succedeva da un pacco di tempo. Quindi alla fine la cumpa si riunisce e nell'ambiente quasi confortevole e prevedibile dell'autogrill ritrova un suo equilibrio interno. Ma parliamo dell'autogrill, Max, parliamo dell'autogrill. Esatto, l'autogrill in quegli anni in particolare aveva il ruolo del non luogo. L'autogrill era la ripetizione di se stesso in ogni parte d'Italia, perché c'erano diversi tipi di autogrill, c'era quello a ponte, quello che attraversa tutta la carreggiata e quindi da sopra così si staglia ed è visibile da chilometri di distanza. Oppure c'è quello piccolo che è poco più grande della zona del benzinaio, però in generale è sempre ripetuto, è uno schema, è un non luogo, esatto, è quello che dicevo prima, è il non luogo per eccellenza. Tu dovunque ti trovi, entri nell'autogrill e ti senti subito a casa, cioè sai dove sono posizionati i biscotti, dove la noce di prosciutto al pepe, che era uno degli elementi fondamentali degli autogrill degli anni 90. C'erano dei prodotti che c'erano solo lì fondamentalmente. E quindi per il gruppo, per la compagnia di amici che si trova ad avere perso la grande occasione della festa della vita, ritrovarsi in un luogo in qualche modo così confortevole, così familiare ti ridà l'identità di gruppo, ti senti meno perso. E quindi ci tengo a sottolineare che gli autogrill di allora erano diversi da quello che stanno diventando gli autogrill oggi. Oggi si sta cercando di farli diventare dei posti un po' più ricercati, raffinati, stanno nascendo un sacco di questi autogrill in cui per esempio fanno il pane lì, direttamente sul posto, fanno la focaccia, cioè stanno facendoli diventare dei luoghi un po' più hipster, mettiamola così, col pavimento di legno bello, figo, eccetera. All'epoca no, all'epoca era proprio tutto standard. Il camogli era il camogli. Io mi sono sempre immaginato, cioè poi conoscevo gente dell'autore che dicevano che lavorava lì, dicevano che lo facciamo noi la mattina, ma io immaginavo la fabbrica del camogli e del fattoria e di quei panini lì, cioè una in Italia che veniva, perché erano tutti uguali, non c'era alcuna differenza e appunto come ti dicevo prima era la bellezza e la prevedibilità. Tu sapevi che c'erano dei prodotti diffusi solo lì. Uno appunto era la noce di prosciutto al pepe, che io non ho più visto da nessun'altra parte, ma in tutti gli autogrill era presente. Era una specie di prosciuttino grosso, una specie di mini cocomero, ricoperto, nessuno l'ha mai provato forse, che nessuno l'ha mai acquistato. Però era bello sapere che fosse lì, sapevi che perlomeno se non avevi niente da mangiare a casa, l'ultima risorsa era la noce di prosciutto al pepe, anche se appunto non l'ha mai comprata nessuno. Oppure c'era un fantastico oggetto, era una bevanda, si chiamava Baby Bomba, e anche lì nessuno ha mai avuto il coraggio di acquistarla. Era una specie di biberon bianco, ma biberon, proprio biberon con anche il ciuccio sopra, che in realtà era una cosa probabilmente alcolicissima, e si chiamava Baby Bomba, e non ho mai capito perché lo vendessero negli autogrill e non fosse mai stato distribuito in nessun altro canale. Io non l'ho mai visto né al supermercato, né in un bar. e quindi probabilmente era qualcosa, cioè aveva a che fare con dei superpoteri, non lo so, era una cosa stranissima. Però era il bello dell'autogrill standard, dell'autogrill come doveva essere. Guarda, adesso mi autocito io, perché Brand New inizia alla fine degli anni 90, e c'è tutto un pezzo sull'autogrill, e su quest'idea, che era quella di cui parlavi tu, che ci fossero dei prodotti tipici dell'autogrill, cioè non tipici di una zona, tipici di tutti gli autogrill, cioè il prosciutto al pepe appunto, era assolutamente tipico di autogrill, che è un luogo, è un luogo che ha diverse, diciamo è un luogo fluido, è un iperluogo, non un non luogo. Esatto. E poi in realtà era... Esatto. No ma addirittura che uno dice, ma magari erano maiali allevati direttamente dagli autogrill, cioè deve essere proprio una cosa che nasceva lì, un prodotto locale, come dicevi tu giustamente, era una roba stranissima, ma il baby bomba devo andare a informarmi adesso, cioè sto per andare a cercare, a googlarlo, perché è terribile.